Il primo ministro Conte ha rilasciato una nuova conferenza dove ha ribadito il fatto di aver preso la decisione di allargare la zona rossa in tutta Italia. Ovviamente questa è una scelta coraggiosa, è una scelta drastica che sinceramente non mi aspettavo come quasi tutta l'opinione pubblica non si aspettava. Ovviamente i partiti hanno spinto per arrivare a questa decisione ed è una scelta secondo me saggia. Ovviamente ci saranno dei pareri contro e dei pareri pro ma in una situazione di pericolo per il nostro paese, di allerta mondiale questa è la situazione migliore. Ed è importante riuscire a prendere decisioni così importanti in questi momenti così delicati per il nostro paese. Quindi dovremmo solo ringraziare Conte per questo provvedimento forte che dà uno spiraglio di salvezza anche se per molti può essere vista come una restrizione. Ma in realtà non è così, questa è una cosa che verrà incontro a noi e al benessere della nostra penisola e dell'Italia. Quindi dovremmo ringraziarlo e ovviamente perché siamo arrivati a questa scelta anche per tutti gli eventi che sono successi finora sui social e non dove molte persone non hanno rispettato o preso sul serio questa situazione facendo cosa voleva, facendo il cavolo che gli andava di fare, andando a sciare, scappando la zona rossa. No, serve un provvedimento forte perché a volte per controllare c'è bisogno di regole forti e di qualcuno con giudizio e di qualcuno che ci governi in modo forte. Come diceva anche Machiavelli di prendere delle decisioni forti e secondo me, spero, dovrebbe essere per tutti perché razionalmente è una scelta giusta. Ovviamente non durerà mesi e mesi, durerà qualche settimana e dico solo di avere pazienza perché questa situazione finirà e andrà in migliore dei modi. Forse molti di noi non capiscono la gravità ma c'è gente che ha perso nonni, genitori e tene i figli gravamente malati per colpa del coronavirus e per colpa dell'ignoranza che dilaga. Perché c'è gente che è morta e nessuno se ne frega un cavolo. Quindi è una decisione importante e va rispettata e seguita perché noi dobbiamo pensare al prossimo e non vedere solo a noi stessi. Non importa se io sono giovane o in salute, c'è qualcuno accanto a me che è debole e potrebbe morire per colpa mia, della mia ignoranza e del fatto che me ne sono fregato e ho fatto del male agli altri. Noi dobbiamo pensare al bene e rifarci anche alla nostra religione cristiana o quel che sia, di voler bene il prossimo e questo è un esempio. Qui ci stanno mettendo alla prova, dobbiamo essere rispestuosi e razionali e soprattutto informarci, informarci, informarci. Anche se non è il nostro campo, noi non siamo medici o dottori, chi l'ha detto che non possiamo informarci e capire qual è la gravità e come dobbiamo comportarci nel modo giusto. Molta gente non l'ha fatto e quindi siamo arrivati a questo, di estensione della zona rossa in tutta Italia. Per ora questa è una scelta saggia, coraggiosa e ci sta. Perché qui serve attenzione, perché come risaputo aumenta del 30% al giorno. Settimana scorsa è una 3.000, ora tocchiamo i 10.000. Vi pensate che negli ospedali ci sono 500 posti di terapia intensiva? No, quindi abbiamo rispetto, informiamoci, pensiamo in modo matematico e razionale e dobbiamo dimostrare di essere un popolo intelligente. La democrazia sta anche qui mettere in gioco il popolo e vedere se davvero c'è la maturità per prendere decisioni importanti. E purtroppo siamo arrivati a che ci hanno imposto questa decisione dall'alto, che è stata la conseguenza di molti atteggiamenti dilagati in questi ultimi giorni. Quindi scrivetemi nei commenti se siete d'accordo con il nuovo decreto.